Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 10 febbraio 2023, sono le 7 del mattino, l'ora giusta per relazionarvi su cosa dicono i giornali questa mattina, questa è la rassegna stampa di Fano TV, quindi bentrovati. Vediamo subito le notizie del giorno, ma prima però passiamo per l'almanacco. L'almanacco oggi ci dice che festeggiamo Santa Scolastica, Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, fondatrice dell'Ordine delle Benedettine, lei stessa aveva fondato un convento ai piedi del monte dove San Benedetto aveva poi costruito il suo convento che fu un faro per quanto riguarda la cristianità in Italia ma anche in tutta Europa, tant'è che San Benedetto è proclamato proprio patrono d'Europa. Le previsioni del tempo, oggi c'è il cielo sereno sulla provincia di Pesaro Urbino ma quindi la pressione torna ad aumentare dopo il maltempo dei giorni scorsi favorendo un rapido diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi anche nel pomeriggio. Un po' su tutta la regione Marche, vediamo qua ancora qualche nuvoletta in modo particolare nell'entroterra. Sulle coste i venti spireranno con una direzione media da nord-nord-ovest, nell'interno invece con una tensione ancora inferiore da nord. Le temperature sono in calo e si aggirano tra gli 0 gradi e 5 per quanto riguarda la massima. Oggi apriamo per primo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano, vediamo subito il titolo. L'addio alla Nazionale Cantanti, ora cerca una sede amatelica. Si era parlato da tempo per una sede della Nazionale Cantanti a Fano, in modo particolare nella zona sportiva della Trave dove esiste una casa abbandonata da tanto tanto tempo, Casa Bartoli, che ora è in degrado. Ebbene, i contatti assunti dall'amministrazione comunale con chi gestisce la Nazionale Cantanti, una formazione che si dedica alla solidarietà ma che costituisce un mezzo di promozione veramente importante per la città che la ospita e dove poi si svolgono le partite. Ebbene, sembra che non essendosi concluso l'accordo che doveva essere fatto per poter effettuare questo insediamento, la Nazionale Cantanti si è stancata e ora si sta rivolgendo amatelica. È un peccato, è un peccato che viene evidenziato dalla segretaria di Fratelli d'Italia, Loretta Manocchi, che ora evidenzia questa situazione. Il sindaco, dice la Manocchi, come sempre, ha perso tempo e ha perso una opportunità per quanto riguarda la città di Fano. Pensate la presenza di grandi cantanti a Fano per gli allenamenti, per la loro sede, che cosa avrebbe significato anche come forza di attrazione per altri cantanti, la Manocchi dice a livello internazionale. Peccato. Vediamo le altre notizie. C'è Maretta anche all'interno della maggioranza. Per quanto riguarda i ritardi osservati dai lavori per il parco urbano al campo di aviazione. Ed è la capogruppo di Incomune, Carla Luzzi, che così spara qualche, non dico proiettile perché Carla Luzzi è una pacifista convinta, comunque esprime qualche critica nei confronti della Giunta stessa. Parco urbano, il ritardo sale a tre anni. Adesso basta e faremo una protesta ogni sette giorni. Ebbene, sappiamo che i lavori al parco urbano sono iniziati, sono iniziati sì con grande ritardo, ora speriamo che si proceda allacremente. Comunque la Luzzi non ha mancato di svolgere una sua ennesima interrogazione per convincere la maggioranza a far sì che la ditta lavori più allacremente e finalmente questo progetto venga alla luce, così come era stato pronostricato. Si è svolto soltanto un primo piccolo lotto, una piccola area giochi con la mantagnola per i bambini. Il resto è ancora tutto di là da venire. Comunque vedremo quale sarà la risposta dell'assessore Brunori. Tiriamo ancora pagina, no, restiamo sulla pagina e parliamo di carnevale perché siamo già alla seconda settimana di carnevale e il weekend è nutrito di manifestazioni. L'astronauta Nespoli e i carri in centro storico. Questo è il titolo che appare a fondo pagina del Corriere Adriatico. Ebbene, ci sono molte molte iniziative oggi, domani, domenica per il carnevale fanese. Un ricco weekend di carnevale. Si inizia oggi con il veglione dei bambini, che viene recuperato dopo tanto tempo. Si svolgerà al restaurante mediterraneo Trafano e Pesaro. Ebbene, alle 18, poi nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, è in programma la presentazione del libro di Silvano Clappis e Raffaella Manna, Paolo Furlani, l'incanto della scultura. Paolo Furlani è uno dei più apprezzati maestri carristi del carnevale di Fano ed è uno scultore in sé per sé di livello artistico notevole. E' lui l'autore, per esempio, della copia che reinterpreta il personaggio dell'Esippo sul molo di Fano. A seguire a Palazzo del Carnevale, cioè a Palazzo Bracci Pagani, si inaugurerà una mostra dedicata allo stesso Paolo Furlani. E poi domani si comincia alle 14.30 nel campo da rugby, Falcone e Borsellino, al campus scolastico, per il torneo carnevalesco di Touch Rugby, organizzato dalla Fano Rugby. Insomma, è veramente una partita emozionante, perché poi è una partita di uno sport così curioso e bello da vedere. Alle 16.30 a Fano Center è in programma un'altra festa per i bambini, il carnevale in galleria. E poi nella sala di rappresentanza alle 17.30, domani, ci sarà la possibilità di ascoltare un dialogo tra il maestro Michelangelo Pistoletto e l'astronauta Paolo Nespori, dal titolo L'artista e l'astronauta. Una bella combinazione. E questo verrà a cementarsi ancora di più la collaborazione che l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha intrapreso con il Carnevale di Fano. E poi ancora iniziative. Ci sarà il Carnevale in centro storico. I carri di seconda categoria penetreranno nel centro storico di Fano, attraverseranno tutto corso Marteotti, a partire dalle 19.30. Sarà la notte dei colori. E poi concerti in piazza, festa. Insomma, tutto per incentivare quello che sarà il clou della manifestazione che è in programma per domenica con la sfilata di grandi carri allegorici. Ed è la seconda sfilata che si terrà per il Carnevale di Fano. Ed ora vediamo veramente le altre pagine. Si parla di fondi e di investimenti. In questa pagina dedicata a fabbisogni formativi alle imprese. C'è stato un incontro ieri alla Memo, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi, con i sindacati. Aguzzi a Fano si è confrontato con i sindacati e con le categorie, per quanto riguarda gli investimenti e i fondi che provengono dalla Unione Europea e dal PNRR. Dobbiamo individuare le figure necessarie per quanto riguarda la formazione che possono poi realizzare i progetti che verranno finanziati. È iniziata dunque la tappa fanese. Ieri mattina nella Mediateca Memo un ciclo di incontri che dovrà definire quali figure professionali siano necessarie al sistema economico marchigiano e come si possono inserire nel mondo del lavoro. Insomma ci vogliono dei tecnici, perché poi i progetti che vengono finanziati sono particolarmente importanti. Dal punto di vista tecnico ci vogliono delle figure professionali ad hoc per inserirle nel mondo del lavoro. A Mondolfo c'è un'iniziativa che privilegia le persone che si trovano in un determinato stato per quanto riguarda la sosta delle auto. Stalli rosa per i genitori e le donne in gravidanza. Mondolfo riceve 6.000 euro dal Ministero. Sono stati finanziati altri quattro comuni in provincia. Vediamo chi sono San Costanzo, Lunano, Fossombrone e Mondavio. Per quanto riguarda questi finanziamenti, queste contribuzioni che giungono dal governo. Stalli rosa in aumento grazie alla partecipazione del Ministero della Mobilità Sostenibile. Il Comune di Mondolfo potrà beneficiare per il 2023 di 6.000 euro che serviranno ad aggiungere un numero superiore di spazi dedicati alle mamme, in dolce attesa alle future mamme e anche e soprattutto ai genitori con bambini che non superano i due anni di età. Insomma, sono spazi liberi, una cortesia che la comunità fa a chi si trova in queste condizioni. Quindi una bella iniziativa. A Senigallia si parla di sport in diversi momenti. Per l'impianto sportivo di Ponte Rosso sono in due a contendersi la gestione. Ebbene, sono giunte due offerte in comune per la gestione di questo impianto. Chiuso il bando, un milione per il Palascherma, la Palestra Belardi, il Beach Cross sulla spiaggia. Dunque due investitori si contengono la gestione dell'impianto sportivo del Ponte Rosso. L'obiettivo è quello di incentivare lo sport come volano del turismo, ha detto l'assessore Riccardo Pizzi, che è assessore allo sport. Il bando è stato chiuso e sono pervenute due offerte. Sport per attirare i turisti. E non solo. Un altro obiettivo che l'amministrazione comunale di Senigallia si pone è quello di considerare lo sport come strumento e cura del benessere psicofisico. Ed ecco perché nel corso dell'anno è in programma anche la realizzazione di nuove aree fitness che si concluderanno nella realizzazione di due progetti nei parchi cittadini. Quindi uno sport di tipo, diciamo così, che aiuta il fisico e la mente, uno sport ammatoriale di mantenimento per una giusta forma fisica. E' questo appunto che il Comune di Senigallia intende realizzare. Per quanto riguarda le pagine regionali, invece, voglio segnalarvi un articolo che riguarda la famosa direttiva Bolkestein, che è un po' lo spettro per quanto riguarda i concessionari di spiaggia. Ebbene, Fratelli d'Italia, quando era l'opposizione, si è battuta allacremente perché questa direttiva non venisse osservata e che gli attuali gestori non dovessero mettere a bando, insomma, per le attuali gestioni non si dovesse mettere a bando appunto le aree che sono in concessione. In realtà non è così. Al momento si è ottenuto soltanto la dilazione di un anno. Balneari, un anno in più? Ok, va bene, ma non è sufficiente. Insomma, lo spettro rimane. È uno che lavora da decenni, che ha fatto investimenti nella sua concessione. Si vede a un certo punto togliere questa, magari aggiudicarla ad un altro che beneficerà di tutta la promozione che è stata ottenuta in più di tutte le strutture che ci sono. Insomma, è una cosa che viene con determinazione contestata. Gli operatori del settore accolgono tiepidamente la proroga delle concessioni decise a Roma, condizione che nuoce pure al turismo. Il governo faccia valere le nostre ragioni a Bruxelles, lo dicono gli operatori. C'è una dichiarazione di Mauro Mandolini, che è presidente dei Balneari Confartigianato di Pesaro Urbino, che dice La proroga consente di affrontare con serietà l'annosa questione, ma la priorità assoluta è arrivare a definire una condizione di stabilità che consenta ai concessionari di far valere la loro professionalità e di poter pianificare investimenti che allo stato attuale sono impossibili. E' vero, chi si azzarda a realizzare una piscina in più, una struttura magari di accoglienza in più, che poi il prossimo anno deve cedere il tutto a un'altra persona. Insomma, veramente è una situazione complessa. A 14, tanto rumore per nulla, i cantieri restano con i pericoli, i lavori che si stanno facendo sull'arteria purtroppo sono causa di incidenti. Ieri si è svolta una riunione al Ministero insieme alle Marche, anche con l'Abruzzo, però non si è cavato un ragno da un buco. Aumentare dove è possibile le ore di lavoro notturno, però insomma, tanto rumore per nulla, dice il giornale. Le cose sono rimaste così come si trovano adesso. Ed ora parliamo in modo specifico di Pesaro, dove vediamo che sale alla ribalta il parcheggio di San Decenzio. Il parcheggio bis, entro l'estate, 216 posti. Un primo intervento ha realizzato 105 posti. I lavori sono conclusi in questa grande struttura ed interesse non tanto per il cimitero, sì, sì, lo è per il cimitero di Pesaro, ma è anche per tutta la città e soprattutto per il turismo. Ebbene, si parla di un secondo stralcio per 111 posti auto e la consegna dei lavori dovrebbe venire entro la prossima estate. Dunque, ne parlano gli assessori di Pesaro. Lavori conclusi entro l'estate, area di sosta anche con funzione turistica. Nel complesso, in tutto, ci saranno a disposizione 216 posti auto. Orti Giulia in abbandono, si apre la caccia ai fondi, il verde ormai in rovina, mentre il bar resta senza una destinazione, riunione tecnica in comune, si ricomincia da zero e cambia tutti. Ebbene, gli Orti Giulia a Pesaro si trovano in uno dei bastioni superstiti della cinta muraria della città. È un'area molto bella, sebbene mantenuta, in realtà è sempre stata in modo precario, quindi è un parco, è una realizzazione da perseguire in maniera che il decoro poi prevalga allo stato di abbandono in cui si trova. I ragazzi snobbano gli indirizzi turistici, boom, discritti all'agrario, tiene il classico. Questo è un articolo di... è un consultivo che si riferisce un po' a tutta la provincia. È un po' l'esito delle iscrizioni agli istituti superiori della nostra città. Ma non solo, poi abbiamo anche dati per quanto riguarda le primarie, le scuole medie e anche le superiori, grandi numeri anche per i licei scientifici della provincia, primarie segnate dal calo della natalità. Ebbene, in questo articolo sono così evidenziate le scelte degli studenti. Vediamo chi sale e chi scende. Il 3,3% in aumento per quanto riguarda la scelta dei licei artistici. Il 3,1% in più per l'agrario, l'1,4% per il liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale. Lo 0,9% per il professionale dell'agricoltura. Sono numeri percentuali in aumento, questi rispetto al prossimo anno, mentre in diminuzione troviamo l'indirizzo informatica e telecomunicazioni, il 2,1% per quanto riguarda il turismo e l'1,9% per la chimica, materiali e biotecnologia. Le scelte dunque privilegiano sempre i licei, in modo particolare il liceo scientifico. Sono 3.203 gli iscritti alle seconde scuole secondarie di secondo grado. 58,8% hanno privilegiato i licei ed è la maggioranza degli indirizzi che sono stati privilegiati da parte dei ragazzi della nostra provincia. E parliamo anche di un delitto che si è svolto nel periodo di Natale di qualche anno fa. Si tratta dell'omicidio di Natale che si è svolto a Pesaro. Sono stati chiesti, si sta svolgendo il processo per quanto riguarda i due imputati, che sono i due presunti killer. Ebbene il procuratore ha chiesto due ergastoli. Ieri la requisitoria della procura. Nonostante il rito abbreviato è possibile la pena massima, ovvero l'ergastolo. Due ergastoli chiesti dalla procuratrice capo Monica Garulli. Per il 43enne Francesco Candiloro e il 44enne Michelangelo Tripodi, che sono indicati dalla procura come gli esecutori materiali dell'assassinio. L'omicidio è avvenuto a Pesaro nel 2018. Sappiamo che è stato ucciso Marcello Bruzzese, fratello del pentito di giustizia. Era una vendetta che era stata fatta. E ora vedremo che cosa poi deciderà il giudice. Se combinerà il massimo della pena oppure prevarranno delle attenuanti. Botte e minacce di morte alla moglie e la figlia minorenne sei un mostro. Questo è un altro articolo che riguarda violenza sulle donne. Ormai non mancano mai questi episodi di cronaca sui giornali. Ne troviamo uno al giorno. Si è aperto il procedimento a carico di un quarantenne. Si tratta di un extracomunitario proveniente dallo Sri Lanka di 40 anni. Ebbene aveva assunto un atteggiamento molto molto aggressivo nei confronti della moglie. In più occasioni l'avrebbe strattonata, l'avrebbe spintonata, pugni violente tirate di capelli, tanto da farla cadere. Lesioni che hanno fatto finire la signora in ospedale per ferite alla testa, giudicate guaribili in tre giorni. Poi le avrebbe anche impedito di telefonare a parenti e amici, temendo probabilmente che potesse raccontare le violenze subite, fino ad arrivare a prendere il cellulare dalla bossa e romperlo, per non consentire di utilizzarlo. Ebbene, ora deve rispondere di queste cose davanti al giudice. La prossima udienza sarà quella del 5 ottobre, quando verrà ascoltato l'imputato e alcuni testimoni del rapporto conflittuale. Quindi è un processo in divenire. Vediamo ancora qualche notizia di Pesaro. assegnati 2 milioni a famiglie in difficoltà e più della metà sono risorse del Comune. L'assessore Pandolfi considera decisiva la capacità di progettare con quei contributi aiuti a 4.600 nuclei. Il numero non è da poco, insomma, sono diversi. Vediamo anche la pagina di Urbino, dove il maltempo desta diversi problemi. Ghiaccio sulle strade, due tir di traverso, bloccato anche l'ossigeno per l'ospedale. Caos ieri mattina per accedere ad Urbino a causa dei mezzi senza gomme antineve che scivolavano sul ghiaccio. E il pericolo, infatti, è il gelo. La prevista neve e le temperature rigide non si sono fatte attendere nell'entroterra, creando notevoli disagi e problemi alla viabilità. Difficoltà dovute a veicoli non sempre adeguatamente attrezzati, con gomme antineve, soprattutto nella prima mattinata di ieri. Da dopo le 7, nel traffico sia urbano sia nella città ducale che lungo la strada statale 73 bis, dalla rotatoria della Bretella per e da Urbino al rondò della cosiddetta cruce dei missionari. E questo il tratto di strada più critico. Insomma, fate attenzione, perché anche oggi la situazione potrebbe essere pericolosa. Anche il cielo sereno fa sì che le temperature si abbassino sempre di più, tant'è che abbiamo visto che la temperatura minima raggiunta nel cuore della notte è zero gradi. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata al freddo e al gelo che si riscontra nella palestra di Cucurano. Palestra nuova, al gelo e niente acqua calda. Il disservizio nella struttura adiacente alla scuola elementare di Carrara-Cucurano. Una palestra nuovissima, così come lo è la scuola vicina. La Lega all'attacco, centinaia di bambini al freddo. Dunque stare senza riscaldamento e senza acqua calda è un problema in questi giorni. Così è la nuova palestra adiacente alla scuola elementare di Carrara-Cucurano, inaugurata poco più di un anno fa. Centinaia di bambini, osservano i consiglieri della Lega, sono costretti al freddo a causa del malfunzionamento dell'impianto termico da mesi. Sono costretti a fare sport senza riscaldamento. Agli alunni della scuola si aggiungono poi circa 200 giovani atleti tra judo, volley, basket e ginnastica che nell'arco della settimana, nelle ore pomeridiane, frequentano appunto la palestra. Sono costretti a fare i conti con il freddo, quindi è un allenamento ancora più focoso quello che sono costretti a fare per riscaldarsi. Poi vediamo qua la protesta che riguarda non solo il ritardo per così come sono incominciati i lavori per il parco urbano all'aeroporto, ma c'è una protesta che lupus infabula, l'Associazione degli Ambientalisti indirizza contro l'impianto del Pumtrak. Il Pumtrak sarà realizzato prima che prenda forma il parco urbano dell'aeroporto. Insomma, un progetto che procede con una marcia in più rispetto invece a quello più importante che è il parco dell'aeroporto. Un progetto che secondo gli ambientalisti mal si adatta alla natura del parco dell'aeroporto, anzi, secondo loro lo violenta, ecco perché non dovrebbe essere fatto e qui c'è la protesta. Ma sembra che ormai le cose procedano per conto loro. Incontra la ex con un altro ragazzo, lo picchiano, se la cavano risarcendolo. Ebbene, un episodio di cronaca, una punizione nei confronti di un ragazzo sorpreso con la ragazza di uno del gruppo. Il gruppo si è equalizzato contro quest'ultimo, lo hanno atteso in un distributore di benzina e lo hanno malmenato. Rivali in amore, aggredito da due cugini fanesi e da un amico. Il pestaggio è avvenuto in un distributore. I tre, alla fine, hanno pagato mille euro a testa. La vittima ha rimesso alla querela la condanna di carattere penale. È stata scampata. Insomma, c'è stato il risarcimento. Giriamo pagina e vediamo che anche il resto del Carlino si occupa della Nazionale Cantanti che purtroppo si indirizza a Matelica e abbandona Fano. Si perde una opportunità. 5 Stelle all'attacco del Partito Democratico in questo articolo di Spalla fanno richieste improponibili per quanto riguarda la ferrovia Fano Urbino. Abbiamo visto anche ieri come nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la prima dell'anno, la prima che si è celebrata nel 2023, si è discusso su un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che spinge la Giunta a chiedere alle ferrovie dello Stato l'utilizzo del sedime ferroviario per realizzarvi sopra la pista ciclabile. Ebbene, una contrarietà esplicita che è stata evidenziata dal capogruppo dei Cinque Stelle, Tommaso Mazzanti, che ha detto come la situazione desta veramente perplessità per quanto riguarda questo traccheggiare tra un itinerario che va lontano dalla ferrovia, che va un pochino più vicino, che ci va sopra, insomma, una questione molto complessa da risolvere. La nostra riviera ha bisogno di più carabinieri. È un appello questo che lancia il gruppo dell'opposizione del Comune di Mondolfo-Bonaccorsi. Gli ultimi fatti di cronaca lo dimostrano, soprattutto Marotta ha bisogno di più controlli. Il territorio di Mondolfo-Marotta ha bisogno di un incremento dell'organico dei carabinieri. E se per raggiungere il risultato è necessario accorpare le nostre due stazioni, bisogna percorrere anche questa strada. Lo ha dichiarato Antea Anteo-Bonaccorsi, che è appunto il leader del gruppo di opposizione nel Consiglio Comunale. Giriamo la pagina, troviamo quella di Urbino. Si smantella l'ex osca Canavaccio, vede il futuro. Ebbene, è una grande struttura quella che viene smantellata a Canavaccio. C'è il sindaco Gambini che ha compiuto una visita al cantiere in 25.000 metri quadri. Questa è l'estensione delle aree, quindi vediamo un'area piuttosto ampia. 9.000 coperti, piazza, parcheggi, giardini, servizi per la comunità. Sembra ora un mare di macerie, qualunque, ma in realtà erano gli elementi per edificare un capannone a Milano. Come sia andata a finire, si sa. È rimasto tutto lì. Peccato, veramente, perché la soluzione era portata di mano. Siamo in conclusione. Chiudiamo il giornale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. a risentirci.